Grazie a tutti i canali mediatici che ne hanno parlato. Grazie a tutti i canali mediatici che ne hanno parlato sia in Spagna che in America Latina, cioè del codice della luce e dello straordinario potere terapeutico che è contenuto nella luce e nel sole. Abbiamo un concetto di luce molto molto lontano da quello che è realmente la luce, pensiamo che la luce sia questo, c'è lo spettro del visibile e questo è assolutamente riduttivo. La luce è un fenomeno straordinario, la parte più oscura di questo universo in realtà è luce, è luce che non manifesta determinate frequenze. Questo scompiglia un po' la nostra visione polare dell'esistenza, buio e luce. In realtà di notte noi siamo immersi nelle frequenze luminose della luce, però non riusciamo ad avere questa concezione delle cose dell'universo. Pensate che quando voi ascoltate la radio il suono è luce, quando voi scaldate il pane al microonde state utilizzando la luce, sono frequenze di luce. Le onde radio, le microonde, i raggi cosmici, i raggi X, tutto è luce e queste sono solo lo spettro che la scienza riesce fino ad oggi a misurare. Ma ci sono moltissime persone che stanno iniziando a utilizzare frequenze molto più sottili, per esempio nella guarigione, per esempio nell'intenzione, perché c'è un'espansione di coscienza molto grande. La scienza al giorno d'oggi sta dimostrando quello che da millenni, forse da che esiste l'umanità, sempre le anime più sagge, più espanse hanno detto, cioè che noi intimamente siamo luce. Questa è la prima fotografia dell'alga acetabularia e dei biofotoni, cioè dell'emanazione di luce che avvengono dai tessuti vegetali, da quelli animali e dai tessuti umani. I primi ricercatori, i primi biochimici che hanno condotto questi esperimenti sono stati innanzitutto un poco emarginati dalla comunità scientifica internazionale, come Albert Fritz Popper, per poi guadagnare invece largo consenso tra i fisici. E questa, l'ho fatta vedere anche l'altra volta, è un laboratorio giapponese e il dottor Iramatsu per la biofotonics ha rilevato la presenza di luce nella mano umana. Cioè le nostre mani, il nostro corpo, tutte le nostre cellule emanano luce, luminosità. Questa è la foto di cinque persone completamente al buio, dove si vede che hanno diversi, non è una foto sul calore, non è una foto termica, questa è proprio una rilevazione di luce dai tessuti, dalle nostre cellule. Questo vuol dire che ogni tua cellula emana luce, emana frequenze luminose, emana un campo elettromagnetico luminoso. E quando questo campo elettromagnetico si altera, si presentano dei disequilibri, che ci siamo abituati a chiamare malattie. Sta cambiando un po' la concezione dell'essere umano, perché stiamo entrando in un momento dove i confini tra scienza e coscienza stanno diventando molto, molto, molto sottili. Ho presentato due settimane fa in Spagna una pellicola, che spero arriverà presto in Italia, che si chiama Vivere della Luce, dove ci sono tutti i casi esistiti, molti dei casi esistiti e studiati scientificamente, di persone che hanno raggiunto una condizione di autotrofia, cioè di capacità di vivere senza la necessità di nutrirsi di alimenti solidi o anche liquidi, certe volte. Stiamo iniziando a prendere in considerazione delle possibilità evolutive di salute e di benessere, che prima erano impensabili e le stiamo considerando a livello globale. Alcuni governi hanno pagato dei progetti per dimostrare che esiste una coscienza globale, cioè che siamo tutti interconnessi. Uno di questi è il Global Consciousness Project. Uno degli esperimenti più carini che hanno fatto è quello con le palline, migliaia di palline che cadevano in una parete puntellata e hanno preso migliaia di persone dalla strada che dovevano attraverso l'intenzione influenzare l'esperimento e far scendere queste palline più a destra e più a sinistra. E hanno dimostrato con dei dati rilevabili scientificamente che noi influenziamo, attraverso la nostra intenzione, il mondo circostante, che siamo quindi interconnessi. Ci sono oramai dei dati che sono praticamente scientifici. Adesso vi parlo di un amore molto grande che ho nei confronti del Sole, di questa stella che è stata praticamente, la nostra relazione col Sole è stata boicottata negli ultimi forse 20 o 30 anni e l'elioterapia, che è una grandissima tradizione nella storia, è sparita praticamente. Prima gli ospedali, addirittura l'architettura prendeva in considerazione l'incidenza della luce all'interno dei luoghi abitativi, dei luoghi di recupero dei pazienti, avendo dei netti miglioramenti. Ormai negli ospedali ci si ammala più che curarsi, perché sono degli ambienti profondamente malsani. Abbiamo visto che la luce è qualcosa di molto più profondo di quello che pensiamo. ha degli effetti benefici e curativi, anche solo visualizzare la luce internamente provoca dei cambi metabolici e fisiologici molto intensi, molto molto intensi. Abbiamo condotto anche degli esperimenti su quella che sono la correlazione tra luce e stati di coscienza. Ed è venuto fuori un lavoro molto bello, che ci ha permesso in parte anche di sperimentare il fatto di riuscire a vivere per lunghi periodi, un mese, senza la necessità di dormire, cioè sostituendo il sonno fisiologico con degli stati di coscienza altamente rigenerativi. La luce è un nutrimento, ha delle informazioni evolutive fondamentali. La nostra luce, la luce che emaniamo dal corpo, è un linguaggio che ancora prima di parlare emozionalmente, mentalmente, attraverso i pensieri o anche attraverso il senso empatico, la prima cosa che arriva all'altra persona è la tua informazione luminosa. Laggiù in fondo sta arrivando la mia informazione luminosa alla persona. Perché molte persone parlano, magari dicono delle cose assolutamente superficiali, ma c'è un qualcosa della persona che ti tiene lì, ancorato a quello che sta dicendo? Proprio perché esiste un'informazione sottile, trascendentale, che trascende i linguaggi comunemente intesi, che è il linguaggio dell'anima, che è il linguaggio della luce. Sono le informazioni evolutive contenute nella nostra luce, capace addirittura di cambiare il metabolismo cellulare. Tutte le nostre reazioni enzimatiche base delle nostre cellule sono regolate da questa luce, prima ancora che da una reazione chimica. ci sono state delle persone nel corso della storia che sono riuscite ad avere accesso a questo nutrimento, a questa informazione evolutiva profondissima e superiore contenuta nella luce. E quando ho iniziato questa ricerca mi sono stupito, perché mi immaginavo di trovare persone quantomeno sui generis e alcune sono effettivamente così, vuol dire delle persone un po' lontane dal vivere sociale e comune, delle persone magari dei guru, invece no. Il primo che ho trovato è stato questo signore, il dottor Werner, lavorato nell'industria farmaceutica, direttore di cliniche, ha fatto diversi lavori scientifici straordinari, ha passato 4 anni alimentandosi senza necessità di ingerire cibi solidi. Poi ho capito che questa condizione dell'essere umano è presente in varie culture. Una delle iniziazioni taiwiste si chiama Bigu, la capacità di vivere senza alimentarsi di cibi solidi, accedendo a un nuovo livello evolutivo, a una nuova fonte di alimentazione. Non si tratta di digiuno, si tratta di un altro tipo di alimentazione semplicemente. Ira Ratammanek, un ingegnere meccanico che utilizza il sole, il sun gazing, proprio per nutrirsi e rigenerarsi profondamente e non mangia. Questo è un altro caso interessante, Pralagiani, studiato ampiamente da varie equip mediche e dall'età forse da 40 anni o più che non ingerisce cibi solidi e non beve neanche, neanche cibi liquidi. L'hanno tenuto varie volte in ospedale monitorandolo. Una delle cose più impattanti che è uscito a livello medico è stata la sua vescica che durante il giorno si riempie di acqua e poi quest'acqua viene riassorbita. A me piace pensare che questa è una possibilità evolutiva per il genere umano e che è una delle strade possibili per la nostra evoluzione, ma sconsiglio vivamente di avvicinarsi a questi temi con l'intenzione di smettere di mangiare, perché manca una sobrietà di base. Deve essere un equilibrio interno superiore che manifesta questo genere di fenomeno e non il contrario. Per esempio gli esperimenti che abbiamo condotto noi sul non dormire, sono stati condotti con un gruppo di persone che hanno fatto una preparazione di due anni, perché ci vuole sobrietà, ci vuole perseveranza, ci vogliono delle caratteristiche. Se si fa così per sport, è stato carino, ho trovato una persona che aveva un mio volantino, è venuto e mi ha chiesto in quanti mesi riuscivo a farlo illuminare, perché poi è questa la mentalità delle persone con cui si avvicinano a questi temi. Sono temi molto delicati. Lavorando con persone con l'accompagnamento al morente mi sono reso conto dell'etica e della sobrietà con cui è necessario condurre una ricerca di questo tipo, sì con leggerezza, però con tanta profondità, perché sono tematiche esistenziali. Mi sto dicendo che il sole e la luce solare, o meglio che la luce come concetto più universale, ha un'informazione evolutiva e un alimento probabilmente che noi non sfruttiamo, sfruttiamo in minima parte. Può garantire un nuovo livello di salute, un nuovo livello di benessere, un nuovo stadio evolutivo e questo può, abbiamo la possibilità che si manifesti per un numero sempre più grande di persone. Questa è Santa Teresa Newman, diventata poi santa. Ha passato circa 60 anni di cui forse non vorrei fare errori, è possibile che sbagli dicendo questo, forse gli ultimi 20 senza bere neanche, è stata sottoposta a esami non solo medici ma anche dell'inquisizione o comunque sia di strutture ecclesiastiche molto rigide e alla fine hanno ammesso che questa persona, lui, ma ci sono una lista interminabile di persone, attualmente sembra che siano 3.000, sembra che siano 3.000, non quelli studiati ma quelli dichiarati, casi nella terra attualmente che stanno vivendo senza la necessità di mangiare. Adesso vi faccio vedere una cosa, tutto è luce. Come stiamo noi utilizzando questo cibo, questo alimento? L'Organizzazione Mondiale per la Salute ha pubblicato delle foto e degli studi sconcertanti, però voglio prima partire dall'ultimo che è questo. Sapete cos'è questo? Questo è il cranio di un bambino di 5 anni, 10 anni di un adulto che viene penetrato dalle radiazioni dei cellulari, questo dovuto alla porosità delle ossa. Quella è luce, però è luce distorta, sono dei campi luminosi distorti, questo è quello che avviene alla tua testa quando tu utilizzi il cellulare in questo modo. La foto precedente è questo il nutrimento, tu stai nutriendo le tue cellule con questi campi distorti, è luce, queste frequenze elettromagnetiche sono luce, questa è la tua testa, le parti in giallo e in rosso sono le parti, come è scritto qua, potenzialmente dannose, che creano danni alla salute. Dopo 15 minuti di conversazione alla tua testa succede questo, da questa condizione a questa condizione. Queste sono immagini che sono state già pubblicate dopo una fortissima pressione, io penso, di anni dalle case produttrici, chiaramente di telefonini che cercavano, come è stato per le sigarette, di limitare i danni, quantomeno, perché ci sono dei fortissimi interessi economici. E questa è la prima foto che invece è una rilevazione termica di quello che succede alla tua testa quando tu utilizzi il cellulare. Questo è cibo, quello è cibo per le tue cellule. Sono informazioni elettromagnetiche, campi elettromagnetici che alterano tutto il tuo essere. Sapete che il wifi, wifi, che voi utilizzate in casa, trasmette, lo dico sempre questo, la stessa frequenza della tua ghiandola pituitaria, e a livello fisiologico è come avere una persona che ti grida all'orecchio per tutto il giorno, ci sono persone che se la mettono nell'altra camera, poi gli viene l'emicranea e si prendono un auline, perché siamo inconsapevoli di come utilizziamo i campi elettromagnetici. Proprio durante un'altra conferenza che ho tenuto qua, insieme grazie a Jonathan anche, ho detto che noi utilizziamo il potere della chimica in maniera assolutamente da pazzi. Noi conduciamo uno stile di vita alterato, ci nutriamo di informazioni luminose alterate e poi utilizziamo la chimica per perpetuare allegramente questo stile di vita alterato, salvo poi farci venire una malattia terminale magari. Allora dobbiamo essere più coscienti dei campi elettromagnetici che ci nutrono e in cui siamo costantemente immersi. Allora vi ho detto che nella luce esiste un'informazione evolutiva e non è difficile capire che quando ti esponi a uno spettro completo di luce solare migliorano le tue emozioni, migliorano i tuoi pensieri, migliora il tuo metabolismo in generale, la necessità di consumare alcol e droghe si riduce, la tua coscienza diventa più espansa, più aperta e da qua parte questo lavoro straordinario, cioè il fatto che esistono delle informazioni nella luce che stanno determinando il grado di evoluzione del genere umano in questo momento. Da questo codice, da questo linguaggio dipende tutto il tuo sistema percettivo e cognitivo. Questo vuol dire che tu traduci queste informazioni luminose in vari tipi di espressione, nel metabolismo fisico e fisiologico e così come esiste un codice genetico esiste un codice luminoso che determina però anche la qualità dei tuoi pensieri, la qualità delle tue emozioni, la raffinatezza delle tue percezioni, il tuo livello di espansione e di evoluzione anche spirituale e la considerazione che hai, la percezione che hai di te stesso. Se io dovessi fare un parallelismo per spiegarvi cos'è il codice della luce con la cultura indovedica, farei questo. Questo fenomeno lo conoscete? Ok, il prisma ottico, cioè un unico fascio di luce che contiene un'informazione, tocca un prisma ottico, triangolo equilatero e si apre nell'arcobaleno, che sono sette colori. Secondo la tradizione indovedica, questi sette colori corrispondono diciamo a sette cappe vibrazionali, il corpo fisico, l'energia vitale, il corpo emozionale, chiamato anche astrale, quello mentale, quello causale, quello spirituale, poi quello divino o quello solare. Quindi ci sono sette espressioni di un'unica realtà, sette espressioni, sette apparenti colori, la molteplicità apparente di un'unica realtà. Questi sono i piani in cui si manifesta questa informazione luminosa, distorta o equilibrata. Immagina che il sole è un punto, un pallino di una rete neuronale infinita, che è l'universo intero e la stella che tu conosci come sole in questo momento sta attualizzando, sta inviando informazioni evolutive che riguardano il piano evolutivo universale di questa parte di universo. In questo momento siamo in un momento di trasformazione e di cambio e stanno arrivando nuove frequenze, nuove informazioni. Si tratta di raggiungere un livello di benessere tale da poter captare queste informazioni e poter esprimere un nuovo livello evolutivo. Il lavoro sul codice della luce è un lavoro basato sul fatto che queste informazioni e questa è la bella notizia, si possono decodificare, tutte le informazioni che stanno strutturando in questo momento la tua realtà, tutte, incluso quelle che riguardano le persone che incontri, il lavoro che hai scelto, non solo l'aspetto delle malattie ma anche il tuo aspetto comportamentale, come reagisci alle cose, sono tutte contenute in un tuo codice, nelle informazioni che la tua luce emana, che interpreta e poi emana. La bella notizia è che si possono decodificare e si possono ricodificare. E quando abbiamo iniziato questa sperimentazione è stata carina vedere alcune cose che succedevano. L'esempio che ho fatto l'altra volta, che sempre ci fa ridere, ma non fa molto ridere, è stato quello della signora che è venuta a fare una decodificazione e aveva delle fortissime resistenze nella meditazione profonda. Ogni volta che si avvicinava a un'esperienza di espansione molto grande, ha un concetto divino, aveva una contrazione, si bloccava proprio, aveva un rifiuto e gli veniva una rabbia esistenziale molto grande. Mi ha detto possiamo fare qualcosa per questo mio problema, riusciamo a decodificare? Gli ho detto guarda sei tu che devi riuscire. Allora abbiamo iniziato il processo di decodificazione. Dopo un po' lei ha tirato fuori spontaneamente e dopo tanti anni di matrimonio il marito gli ha detto così angelicamente che aveva un altro figlio con un'altra donna. Una sera dice ti devo dire la verità. Interessante gli ha detto lei. Gli ha detto questa verità e questa donna gli si è rotta, gli si è spaccata la vita perché è entrata in depressione, si è ripresa dopo molto tempo. La informazione evolutiva che lei ha registrato è stata la verità mi ammazza, mi uccide. Quindi ogni volta che lei nella sua vita si avvicinava a una verità, questa informazione evolutiva si manifestava in tutti i corpi, in tutte le frequenze e la inibiva fortemente, tanto da causarle dei grossi problemi fisiologici. Un'altra carina da menzionare è quella della sudorazione, cioè di una persona che aveva una fortissima sudorazione in tutto il corpo e non riusciva a comprendere quale fosse l'origine della causa. E proprio durante il processo di decodificazione ha tirato fuori nel causale il fatto che durante i periodi più traumatici della sua vita nell'adolescenza il padre continuava a martellarlo e a ripetergli sempre la stessa cosa, cioè tu nella vita le cose te le dovrai sudare. Lui ha ricevuto questa informazione, l'ha registrata, è stata registrata intensamente dentro di lui e ha iniziato a creare proprio delle disfunzioni anche a livello fisiologico. E non si tratta di convinzioni, perché la convinzione è una parte infinitesimale di quello che è un codice. La convinzione è un impulso o una struttura mentale, oltre alle impressioni, alle idee, agli schemi ciclici, che appartiene solo alla sfera mentale che influenza gli altri corpi. Ma immaginatevi cos'è il codice o queste informazioni a livello fisiologico, a livello vitale, a livello emozionale, a livello causale, a livello spirituale. C'è stata un'evoluzione molto grande di questa ricerca che è partita con la decodificazione di queste informazioni e poi ci ha portato a qualcosa di straordinario. A qualcosa di straordinario tanto che si sono creati dei piccoli gruppi di studio fatti fondamentalmente all'inizio proprio da psicologi che stavano cercando di capire come funzionava questo sistema e perché stava funzionando. E allora siamo arrivati a questo. Questo è il sistema che normalmente le persone utilizzano. C'è un problema, alcuni ne chiamano malattia questa cosa e vogliono una guarigione. Questo è un sistema polare. ho una malattia, voglio una guarigione. Subito, il più in fretta possibile, voglio uscire da questa condizione che non mi piace. Quindi mi fiondo verso la guarigione. Ma durante il percorso di decodificazione avviene un fenomeno molto più particolare, cioè avviene un'apertura di coscienza intensa della persona e da uno stato polare la persona riesce a incontrare quella che io definisco la vera guarigione. C'è una condizione di benessere e di felicità esistenziali assolutamente inaspettate. Questo causa come effetto collaterale quello che normalmente si intende come guarigione. Vi voglio parlare di alcuni codici e farvi vedere come funziona. Io prima pensavo, uno ha un problema col denaro, ok, allora facciamogli decodificare la ricchezza. Abbiamo visto che questo sistema era parzialmente utile perché è necessario fargli decodificare anche esattamente la polarità opposta che genera conflitto, cioè anche la povertà. Immaginati che a livello percettivo tu sei immerso costantemente in un campo polare. Cioè la Terra è un neon che ti propone il buio e la luce. Buio e la luce. La tua visione dell'esistenza viene influenzata da questo genere di frequenze, quello che tu chiami giorno, quello che tu chiami notte. Tutto è influenzato da questa polarità. Questa polarità a volte entra in conflitto e questo conflitto è l'origine di tutti i disequilibri, di tutto quello che noi chiamiamo malattia. Cioè c'è un conflitto di base. Quando questa polarità entra in conflitto e l'origine, la radice di questa polarità è solo percettiva, allora questo conflitto crea una disfunzione, un disequilibrio molto profondo. Tutto il sistema è basato su questo, sul fatto che esiste una polarità percettiva e che questa polarità entra in conflitto. Immaginati se una persona viene da te e ti dice io ho problemi di soli, voglio diventare ricco e non ci riesco. Benissimo. Una delle modalità per comprendere quali sono le sue informazioni profonde, incoscienti sulla ricchezza è quello di chiedergli che cosa sono i ricchi. C'era una persona di Valencia che è un costruttore di eco aldee, bravissimo, però non riusciva a mettere i soldi. Allora ha iniziato i ricchi sono, i ricchi sono, i ricchi sono una persona povera di estrazioni, con origini contadini, i ricchi sono, i ricchi sono bravi, i ricchi sono bastardi, i ricchi sono egoisti, i ricchi non vogliono prestare i soldi, i ricchi pensano solo a se stessi, i ricchi hanno corrotto il sistema, i ricchi sono corrotti. Ho detto apri un attimo gli occhi, ma tu con queste informazioni vuoi essere ricco, ci sarà una parte di te che ti tira il freno a mano, come minimo tira il freno a mano. E se qui terminasse il lavoro con la decodificazione, la sostituzione di queste informazioni sarebbe incompleto, bisogna decodificare la povertà, i poveri sono. È iniziato a manifestare un meraviglioso codice monastico, i poveri sono vicini a Dio, i poveri, quanto sono bravi i poveri, ma i poveri sono puri di spirito, mica li ha corrotti il denaro, perché i ricchi non entrano neanche per la cruna di non so che cosa nel paradiso. Quindi hanno iniziato a evidenziarsi tutti dei codici causali, cioè il retaggio cristiano dei codici, potentemente inibitori. Se avessimo lavorato solo sulla ricchezza non avremmo sanato il conflitto. La bellezza del lavoro sul codice, la straordinarietà di questo lavoro è che non vuole guarire dei codici, vuole sanare la polarità, questa visione polare dell'esistenza. Chi se ne frega di guarire quando tu puoi vivere unito con ogni cosa? Tutto il resto è una conseguenza naturale. Questa tecnica non vuole guarire, e questa secondo me è la profondità della metodologia, vuole portarti a un nuovo livello evolutivo, a uno stato unitario di coscienza, e questa è la chiave di lettura del lavoro, e non poteva essere differentemente, perché il sole e il punto di vista del sole ci insegna questo. Quando Galileo ha lasciato la terra e ha spanso le percezioni con un telescopio, cosa ha visto? Ha visto che si infrantumava un'illusione collettiva, cioè che fosse il sole a girare intorno alla terra, illusione che continua a esserci profondamente dentro le persone, radicata nella vostra percezione, una visione polare dell'esistenza. Se sono ricco e se sono povero, questi sono gli schemi basi, in realtà sono 24 le domande base per iniziare la decodificazione. Si porta la persona in uno stato di coscienza particolare, dopo averla fatta espandere nel sole, e si inizia a decodificare la persona. Possiamo focalizzare questo lavoro in due categorie, uno è per risolverci i problemi, e l'altro è per sviluppare uno stato unitario di coscienza e accedere a un nuovo livello evolutivo. Ecco, io lavoro in questo secondo senso e vi farò capire perché lavoro in questo secondo senso. La crescita deve essere non legata all'esigenza di guarigione, non legata all'esigenza di cambiare la realtà che si cambia per sua propria natura, perché è impermanente questa realtà, deve avere uno scopo infinitamente più elevato che non questo. Questo deve essere un semplice effetto secondario di un'elevazione interiore della visione dell'esistenza. Poi siamo andati a decodificare, abbiamo messo il dito nella piaga, abbiamo decodificato Dio, la divinità, abbiamo decodificato la coppia. Le risate che escono fuori durante i codici sulla coppia sono incredibili perché le persone dicono, io non pensavo minimamente, perché una cosa è fartelo dire adesso, una cosa è che quando sei dentro il processo la mente logica non agguanta più, non controlla più ed escono fuori le vere informazioni della persona, allora devi avere un conduttore bravo che ti sappia portare e sia implacabile alcune volte, cioè ti faccia tirare fuori veramente il codice, lo faccia evidenziare. Ecco uno dei lavori interessanti che abbiamo fatto è sul codice della libertà e della felicità. Abbiamo tirato fuori questo lavoro connesso al lavoro a uno dei seminari che io faccio basato sulla manipolazione, cioè sul fatto delle informazioni e del livello evolutivo che ci ha portato a essere massivamente così tanto facilmente manipolabili. Pensate che noi pensiamo che per conquistare la libertà bisogna avere un Harley Davidson, bisogna fare la guerra a un altro paese, bisogna avere tanti soldi, questo è il concetto di libertà che ha la maggior parte delle persone a livello massivo, non è una condizione esistenziale, non sono felice perché sono vivo, perché esisto, non è meraviglioso che uno chiude gli occhi e si sente vivo e dici, ma che miracolo straordinario è questo, quasi quasi sono felice. È talmente semplice che ci siamo complicati la vita perché abbiamo decodificato, o meglio codificato la libertà in maniera polare. Sono felice, sono libero se… quindi se ho soldi sono felice, se ho soldi, se ho donne, se ho uomini, se ho un lavoro, se ho… la nostra felicità e la nostra libertà non sono più condizioni esistenziali ma dipendono da un qualcosa. È per questo che le informazioni che ci arrivano sono profondamente distorte e le informazioni che emaniamo a livello luminoso sono profondamente polari e distorte. Si tratta un attimo di rompere questi schemi e di entrare in una nuova condizione. Immaginatevi, quando abbiamo iniziato questa ricerca diversi anni fa, è stato bellissimo quello che è successo alle persone, perché all'inizio noi volevamo guarire, volevamo riequilibrare le persone. Allora c'erano tanti casi che hanno iniziato a farci chiedere cosa stavano facendo realmente, perché una persona dice ok, io voglio guarire la mia relazione con il mio padre o voglio guarire la relazione con mia madre, ok, e ha iniziato a decodificare. Dopo un po' gli chiedevo ma perché fai questo che stai facendo, ma perché ti stai decodificando, per risolverti questa cosa? E lei dice no, ma io faccio questa cosa perché in effetti il semplice fatto di farla mi crea un piacere, un benessere superiore al fatto di volermi risolvere il problema. Aveva perso di vista questo, non voleva una guarigione, era questo percorso che le interessava, cioè il fatto di decodificare e di mettersi in quella condizione di ampliare la propria coscienza creava un piacere talmente intenso che non dipendeva da niente, un'apertura di coscienza talmente grande che non dipendeva da niente che era diventato quello, quello è il senso del lavoro e non più il fatto di voler guarire. Sapete cosa si manifestava nella persona? Una reale condizione di libertà, indipendentemente dal fatto che esista o meno il problema, io sto bene, allora se lo risolvo diventa espressione della mia libertà, del mio grado di coscienza, della mia felicità e non più una necessità motivata da una paura, da un'ansia, riuscite a cogliere la profondità di quello che sto dicendo, è straordinario, abbiamo capito che questo percorso, la polarità in se stessa esiste per essere trascesa, la dicotomia malattia-guarigione esiste per arrivare a un nuovo livello evolutivo, ma non per guarire nel senso comunemente inteso, ma per elevarci, per apprendere, è per questo che le malattie sono dei programmi evolutivi in realtà, che possono insegnare alle persone delle straordinarie virtù, possono svelarci la natura più profonda della nostra coscienza. Già con questa visione dell'esistenza cambia anche solo la tua relazione con la malattia, la tua relazione con la morte stessa. Quando abbiamo decodificato la morte, siamo partiti dal fatto che molti malati terminali vivono la morte come una liberazione e non come una condanna. Non è una metafora quando parlo di punto di vista del sole, è una realtà, è un nuovo piano evolutivo che per la prima volta è possibile manifestare a un livello massivo molto più grande. Se la prima parte è connessa al lavoro di decodificazione e ricodificazione, la seconda parte è connessa a un lavoro molto più sottile e profondo, cioè al fatto di essere in grado di imparare le stesse cose attraverso un'informazione non polare. Che cos'è la felicità non polare? Che cos'è la libertà non polare? Che cos'è la guarigione non polare? Che cos'è la coppia non polare? Qualsiasi informazione di qualsiasi campo umano si può apprendere con queste nuove frequenze evolutive. Quindi il lavoro del codice è strutturato in queste tre parti. Nella prima parte viene insegnato come attingere al sole come risorsa per generare in te un nuovo livello di salute, di benessere e preparare la tua coscienza a vivere uno stadio evolutivo molto superiore. La seconda parte è dedicata alle tecniche di decodificazione e ricodificazione di quelli che sono i tuoi blocchi più importanti, i tuoi nodi in questa esistenza, le tue problematiche più importanti. E la terza parte invece è dedicata alle informazioni non polari che tu devi assimilare per manifestare un nuovo livello evolutivo. Quando io ho iniziato a fare questa sperimentazione utilizzando il metamodello solare, non avevo la minima idea di dove ci avrebbe portato questa ricerca. Abbiamo visto che era il sole stesso, inteso come modello, a illuminarci il cammino, a strutturare il cammino in una forma assolutamente impersonale. Dal 1997 ho iniziato a fare delle ricerche sul matriarcato della Sardegna, perché in Sardegna abbiamo avuto una vastissima presenza di culti matriarcali, culti legati alla Dea Madre, e poi un'influenza anche dei culti solari, per esempio Santo Stefano vicino a Oschiri è probabilmente un altare solare, ma si sa che anche dei guerrieri molto antichi della Sardegna che si chiamano Ciardana sono stati le guardie personali di Achenaton, quindi il culto solare è arrivato in Sardegna. E queste donne anziane, quando io andavo a intervistarle, quando io gli facevo delle domande per cercare di capire i segreti che non ci sono invece, se non quello che si vede alla luce del suono, mi dicevano di andare a chiederlo all'albero o di chiederlo al sole, che era molto più facile parlare col sole rispetto a parlare con le nuvole durante un temporale. Avevano questo linguaggio che a me mi ha rotto completamente il mio approccio invece più mentale alla natura. Quindi ho capito che i modelli che la natura ci offre sono dei modelli didattici straordinari, il sole è un maestro straordinario, un riflesso della nostra coscienza straordinario, è un piano evolutivo straordinario, ma abbiamo perso la capacità di leggere il linguaggio della luce, di interpretarlo e di manifestarlo attraverso tutti i campi dell'esistenza. E il nostro modo di vivere ci sta costringendo o ci obbligherà a ritornare a questa saggezza così semplice e pure così profonda presente nell'essere umano. Quindi vorrei ringraziare innanzitutto la cultura della terra da cui vengo, che mi ha dato questa ispirazione, questa intuizione. E poi volevo ringraziare il sole perché ogni giorno grazie a questa fonte di alimentazione, di guarigione straordinaria perché è una medicina, è un alimento potentissimo che non prendiamo in considerazione, si è strutturato questo lavoro straordinario che io ho chiamato coscienza solare e che è stato applicato a moltissimi campi, come vi ho detto prima, del sapere umano. È uno studio interdisciplinare, cioè ci vogliono ricercatori che possano viverlo, personalizzarlo e applicarlo in tutti i campi dell'esistenza. Attualmente ci sono molte persone che stanno scoprendo che creano la propria realtà, ma che possono crearla in maniera molto più incisiva. Ma esiste un momento di crescita dove comprendere che creare un qualcosa che si modifica per sua natura diventa superficiale come grado di conoscenza. Allora la persona a questi livelli di espansione sperimenta una felicità, una pace, una serenità esistenziale che vanno al di là di voler cambiare un qualsiasi cosa o modificare un qualsiasi cosa che per sua natura si modifica. Ecco, questa secondo me è la corretta dimensione di vivere la conoscenza. Grazie.